Cosa vorrei da un dispenser? Ma... Che funzionasse bene? Che stesse bene in tavola? Ma poi questi dispenser non sono tutti uguali. Mai visto un dispenser che gira? In effetti è una bella idea. È più comodo per i miei clienti, perché ognuno può prendere il suo tovagliolo. Poi è anche divertente. Come hai detto che si chiama? L1 Table Turn. Il primo dispenser che ruota di 360 gradi. Un dispenser dal design originale e dalla meccanica perfetta. Che garantisce ad ogni cliente un accesso più facile al prodotto e anche divertente. L1 Table Turn. Io che pensavo di averle viste tutte. L1 Table Turn. Il dispenser. Che vorresti? Il dispenser. Grazie a tutti